Nel server di Harry Potter Secondo me sarò serissimo fra Io oggi teno la testa bassa Oggi tengo la testa bassa E domani Mentre Albus Silente fa il discorso Di fine anno che sta per far vincere la casata di Gifondoro Faccio E si va a letto E tengo la testa giù così Non mi faccio proprio vedere Albus Silente si alzerà e dirà Chi è stato? Poi non so in qualche modo verrà scoperto Ma nel silenzio più totale questo si va a letto Nel silenzio più totale Appena mi scoprono Albus Silente toglie 100 punti a Gifondoro E Gifondoro perde la coppa delle case Questo è il mio obiettivo Far perdere la coppa delle case a Gifondoro Con un si va a letto